C'è una grossa problematica con gli adolescenti perché dobbiamo tener conto delle ultime scoperte dei neuroscienziati. Non più tardi di 3-4 anni fa, un neuroscienziato degli Stati Uniti che si chiama GID, facendo degli studi sulla corteccia cerebrale, scoprì che la corteccia prefrontale termina il suo accrescimento intorno ai 25 anni di età e ha fatto risalire il turmoil, cioè il tumulto che contraddistingue lo sviluppo psichico, il comportamento, il mondo delle relazioni degli adolescenti, a questo accrescimento della corteccia cerebrale. Nel senso che a 25 anni, nel momento in cui termina l'accrescimento della corteccia prefrontale, tutti i disturbi del comportamento, dell'umore tipici, non quelli patologici, naturalmente dovrebbero attutirsi. Di qui il fatto che poi le persone possono essere definite adulte. Naturalmente in questo turmoil c'entrano tutte le relazioni, soprattutto le relazioni con i genitori. Questo tipo particolare di relazione interviene già nella pre-adolescenza. Possiamo far cadere l'età della pre-adolescenza intorno ai 10 anni e mezzo, 11 anni, cioè alla fine della latenza, perché la latenza è l'età che va dai 6 ai 10 anni, poi nel caso, se sarà possibile, spiegherò che significa latenza. Nel momento in cui comincia la pre-adolescenza, cioè tutto lo sviluppo pubertario della pubertà, quindi tutti i caratteri sessuali secondari, fino al completo sviluppo del menarca e lo sviluppo genitale esterno e anche delle gonade interne, sia nel maschio che nella femmina, tutto questo porta a una variazione anche dell'umore, del pensiero e delle relazioni. Naturalmente quelli che si trovano più a contatto con i ragazzi, con questi adolescenti, sono naturalmente i genitori, cioè coloro che si sono presi cura di questi bambini dalla nascita fino a quest'età. Naturalmente questa modulazione, sia degli ormoni, sia dello sviluppo somatico, incide moltissimo sullo sviluppo psicologico, tanto che il ragazzo e la ragazza si trovano ad avere a che fare con un altro sé, cioè con un estraneo da sé, sia nella mente, sia nel corpo. Non sono assolutamente abituati ad avere a che fare con un corpo maturo dal punto di vista sessuale, per cui debbono averci a che fare. E siccome è estraneo, perché fino allora non conosciuto, molte volte, in tantissime patologie, diventa nemico. Ed è l'unico oggetto, tante volte, che bisogna aggredire. Non a caso vediamo tanti adolescenti che si fanno i tatuaggi, i piercing, e fin qui possiamo parlare di aspetti estetici, ma a volte sono anche eccessivi, fino alle scarificazioni, ai disturbi del comportamento alimentare, perché si vedono troppo grassi o troppo magri, fino a veri e propri comportamenti a rischio che rasentano appunto il tentato suicidio, quando poi non sono dei suicidi veri e propri. E questo è molto frequente in adolescenza, proprio per le trasformazioni del corpo. Le trasformazioni del corpo, che abbiamo attraversato tutti, perché tutta l'umanità l'attraversa, tanto possono non essere ritenuti estranei e nemici, quando c'è contemporaneamente uno sviluppo psicologico che riesce, o è anche un ambiente, che riesce a contenere questa variazione, questa estranetà, tanto da poterla significare. Infatti un concetto importantissimo di cui parlano moltissimi autori francesi, tra cui Gouton, Philippe Gouton, è proprio il pubertario. Il pubertario è per la mente ciò che è la pubertà per il corpo. Quindi lì dove intervengono cambiamenti somatici, ormonali, dei genitali esterni e quindi delle gonadi naturalmente, lì poi deve intervenire un cambiamento a livello di pensiero. Cioè quel corpo deve arrivare a una rappresentazione interna, tanto da potersi pensare, con un corpo diverso e familiarizzare con esso. Naturalmente questo sviluppo dell'adolescenza comporta anche uno sviluppo della genitorialità. I genitori, nel momento in cui i loro figli diventano adolescenti, prendono atto ineluttabilmente che il tempo è passato e quindi ritornano inevitabilmente al vissuto della loro adolescenza e si interrogano e si rapportano con l'adolescenza dei figli. A questo punto i genitori debbono fare il lutto della loro adolescenza, cioè la debbono lasciare per sempre. Naturalmente in questo periodo in cui l'adolescente sta cercando di essere diverso e i genitori prendono atto che è passata la loro giovinezza, qui sorge il conflitto. Quindi bisogna che chi è più capace, e naturalmente dovrebbe essere più capace l'adulto, di andare incontro nella comprensione soprattutto del dolore a cui è sottoposto l'adolescente che deve lasciare tutto il mondo infantile, il corpo dell'infanzia e affrontare un corpo altro, un corpo sessuato in cui deve scegliere quale tipo di sessualità approcciare. Cioè non è più la sessualità onnipotente dell'infanzia, che può essere tutto, ma è un'unica sessualità qualunque essa sia, ma comunque unica, non è più il corpo onnipotente dell'infanzia, è il corpo limitato dell'adolescenza e quindi dell'adulto. Naturalmente i genitori vanno in conflitto, in conflitto perché stanno andando avanti nell'età, perché non si riconoscono più nel loro bambino, perché quello non è bambino, perché l'adolescente sta cercando in tutti i modi di separarsi e per separarsi gli esseri umani debbono andare contro. C'è un autore molto famoso, che era un pediatra e poi è diventato un grande psicoanalista dell'infanzia, che si chiamava Winnicott, che diceva che i genitori a un certo punto debbono farsi uccidere senza morire, in modo da dare quel contenimento e quella sicurezza necessarie per l'adolescente, perché si possa allontanare senza fare danni, né a sé né ai genitori. Quindi il compito genitoriale è veramente difficilissimo e più volte io credo che i genitori vadano aiutati.